Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Allora ragazzi quest'oggi molto probabilmente ultima puntata di calcio a mercato perché vedremo l'ultima settimana dal 25 al 31 agosto che combaccio ovviamente anche con l'ultimo giorno di calcio a mercato Praticamente nella scorsa puntata è successo di tutto abbiamo fatto 3 acquisti, anzi 4 acquisti pesantissimi ma erano 3, non mi ricordo mi sembra 3 sì perché il quarto non è più arrivato perché abbiamo provato a prendere anche il range ma la trattativa con i Pagliadolid è inizialmente saltata ma proveremo a rifarla in questa puntata ma ovviamente prima di fare qualsiasi cosa abbiamo questa partita contro la Juventus che corrisponde soprattutto all'esordio in campionato Ma come al solito raga prima di iniziare vi invito a lasciare un mi piace riscrivervi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi e anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio, perplessità e a seguirmi sulla pagina Instagram, il link del profilo è ovviamente in descrizione e anche a sostenere e supportare il canale tramite una donazione grazie al link che si trova in descrizione Detto ciò raga senza perdere neanche un secondo andiamo subito in campo, ovviamente migliore formazione possibile problemino è che l'esordio è contro la Juve che sicuramente non era proprio una squadra semplice da affrontare anzi tutt'altro l'anno scorso abbiamo perso sia l'andata che il ritorno quindi per il momento non abbiamo fatto neanche un punto contro i bianconeri ma per provarci schiereremo la migliore formazione possibile anzi la nuova migliore formazione possibile perché abbiamo ovviamente sempre Okoye fra i pali poi Incapie, nuovo acquisto Luqueba, nuovo acquisto Scalvini che è diventato capitano Livramento Copminers, nuovo acquisto Saivald, Guler anche Saivald, nuovo acquisto Poi in attacco Nusa, Facundo, Farias e Fatavu Issagu Ovviamente anche Farias Nuovo acquisto Quindi ragazzi direi che possiamo scendere in campo speriamo nell'esordio Ragazzi io ci opero subito alla deviazione e qui il miracolo da parte di Okoye Ovviamente la nostra stagione in campo potrebbe iniziare solamente con un miracolo da parte del nostro portiere Allora ragazzi possiamo ripartire C'è Facundo Farias contro tutti Buono il pallone in avanti a cercare Nusa Attenzione Nusa Deve andare direttamente all'importa Il destro di Nusa la parata da parte di Cesni Ma finalmente arriva la nostra prima azione dopo dieci minuti E occhio al calvino Perché Guler ha la diciannove? Perché gli hanno cambiato il numero? Comunque vabbè Calcio un angolo per noi A cercare il nuovo numero quattro che sarebbe in capie almeno per il momento numero quattro Occhio Scalvini Non capisco perché hanno cambiato il numero a Guler Cioè lui ha sempre avuto la sette che hanno messo in automatico a Coppiners Cos'è? Un altro bug? Comunque attenzione Fatavissacu Farias Prova a calciare qui Bravissimo E occhio ragazzi Arda Guler con il suo nuovo numero Attenzione Fatavissacu Fatavissacu Provata a centrarsi Vedi Farias Che si gira e calcia E trova il gol E trova il gol 1-0 Genova in vantaggio Allo Juventus Stadium Segna Il nuovo acquisto L'argentino Facundo Farias Ragazzi Che gol che ha fatto Ma quanto è agile Ma come si muove Voleva esattamente Un attaccante così Un centroavanti Che fosse Clamorosamente agile Infatti qua ragazzi Ha dimostrato Tutta la sua agilità Nello stretto 1-0 Siamo in vantaggio Primo gol Per il nostro nuovo bomber E altro ragazzi Facundo Farias Abbiamo ancora l'opportunità Attenzione Nusa De Vazzalla Piano piano verso Fatavissacu Di testa Improvvisamente La Juventus Si è scoperta E arriva subito Il raddoppio 1-2 Micidiale Da parte del De Rosso Blu Segna Fatavissacu L'attaccante Ganese Qui di testa Addirittura Tra l'altro ragazzi Fatavissacu È stato convocato Anche per il mondiale Ha solamente 18 anni Penso che Difficilmente Entrerà in campo Però sicuramente Vuol dire che abbiamo fatto Un ottimo acquisto Anche in prospettiva Nella vita vera Comunque A noi Serviva adesso Servi adesso Infatti ragazzi Sono due anni Abbondanti Che fa la differenza E non ci credo ragazzi Okoye che cosa aveva fatto Però ovviamente La palla arriva Facile facile A chiesa Che riapre subito La partita Neanche il tempo Di festeggiare Ma giusto così Così appunto Scusate La ripetizione Ma staremo sicuramente Più attenti In questo modo Comunque Primo col subito Nella nostra stagione Ragazzi Attenzione Facundo Farias Raga Ma quanto è forte Doppietta Doppietta Allo stadio Ma come si è presentato Alla serie A Facundo Facundo 3 a 1 Dopo appena 45 minuti In una partita Veramente incredibile Ma cosa ha fatto Qui ragazzi Da dove tira tira Con qualsiasi piede Che cosa sta combinando Facundo 3 a 1 Stiamo strapazzando La Juventus E termina anche Il primo tempo Mamma mia ragazzi Allora Non mi sento ancora Soddisfatto In un certo senso Perché La Juventus Ha dimostrato Di essere estremamente Pericolosa Quindi sicuramente Avrà altre chance Per segnare ancora Però Abbiamo dimostrato Che ogni volta Che attacchiamo Veramente Possiamo fare gol Perché abbiamo Quel fenomeno L'avanti Che ogni tiro Che fa è gol E infatti Ecco qui subito Vlaovic Palo Palo Dopo anche L'intervento Di Okoye Un po' di fortuna Dai ragazzi Sfruttiamo Gli inizi Di stagione Di FIFA Che assolutamente Sono Sempre fortunati Per la tua squadra E occhio che possiamo Ancora andare Facundo Farias Col mancino Gran palla A cercare Antonio Nuse Stavolta arriva Il miracolo Da parte di Cesni E occhio al corner Guler Verso Cop Miners Palla alta Di pochissimo Ma è stata Deviata Da Zagaria Comunque interessante Che il giocatore Che si mette Diciamo In aria In questo caso È Cop Miners Quindi Considerano lui Quello più forte Di testa Attenzione Luque Bacqui Ci prova Ma Diciamo che Esagera Addirittura Col destro Ma Attenzione Quel miracolo Niente ragazzi Hanno segnato su due rispinte Pensate che fortuna Comunque 3 a 2 Ocoy aveva fatto Un altro miracolo Un altro miracolo McKennie Era lì Subito pronto Come un falco A mettere La palla dentro Ovviamente partita Ancora Vivissima E quindi A maggior ragione Non mangiamo Vedi qui c'è Fatavu Attenzione Fatavu Fatavu Il stop Lo stop Lo stop E poi il destro Che centralissimo Blocca Cesini Ragazzi Non mangiamoci Questi gol Ve ne prego Attenzione ragazzi Guler Prova a servire ancora Fatavu Beh ancora dietro Arda Guler Qui siamo stati fortunati Che ne esce un calcio d'angolo Il tiro Non era buono Anzi Ok ragazzi 5 minuti dalla fine 5 sostituzioni per noi Dentro Mataso per Copmanners Scott per Guler E poi diciamo Il trio Offensivo Escharavi Escharavi E Romero E quindi ragazzi Calcio d'angolo Vediamo un po' Escharavi La metto in mezzo Di testa Giorgio Scalvini Arriva il miracolo Di Cesini Ragazzi Ultimo affondo Per la Juventus Il tempo è praticamente scaduto Recupera Palla in capie Che ha fatto un'ottima partita All'esordio E riusciamo a strappare Clamorosamente I tre punti Ai bianconieri Alla Juventus Qui all'Allianz Stadium Non più Juventus Stadium Comunque Grandissima vittoria 3 a 2 Battuta La Juve All'esordio Alla fine ragazzi Juve che ha attaccato tanto Ma inaspettatamente A meno per me Abbiamo fatto più tiri noi Mi sembrava che la Juve Avesse costruito di più E alla fine ragazzi Bisogna dire che Hanno avuto delle occasioni importanti Però Hanno fatto due gol Su due respinte Del portiere Quindi anche fortunato In un certo senso Quindi appunto Anche per questo Vittoria Più che meritata Occhio subito Al Pisa Che pareggia 2 a 2 Con Napoli Campione L'Italia L'Italia in carica Adesso ragazzi Ci siamo Il momento è arrivato Il momento di concentrarsi Solamente sul calciomercato Facciamo passare qualche giorno E proviamo Gli ultimi affondi Su Rido Perché arriva ancora il Brighton Comunque Proviamo gli ultimi affondi Sul terzino Che sarà Ranch Che ancora non possiamo Ricontattare E il secondo portiere Che a sto punto Penso Possa essere Somme Tranquillamente Perché Nonostante l'acquisto Del terzino Dovremmo avere i soldi A disposizione Comunque Si ripresenta Ancora il Brighton Alla nostra porta Questa volta Per Samuel Shashua 25 anni 79 Sicuramente Arriverà ad essere Un 80 E si bloccherà Comunque ragazzi Trattiamo Con Appunto Il Brighton Che nella scorsa puntata Anzi due puntate fa Ci ha preso Basse Per 85 milioni Ma Se mi danno Pure 50 milioni Per Shashua Impazzisco Ragazzi Ok Meno male Però Ottio ragazzi Che la tensione È salita di poco E a sto punto Visto che ho paura Che se lo prendano Effettivamente Shashua Quest'anno Vorrei mantenerlo Faccio 55 Ecco ragazzi 46 milioni Cioè Se io qua Tipo Faccio Non lo so 53 milioni E cavolo Cioè Capace che accettano Rifiutano Ma Secondo me A 50 Accettavano E' incredibile Che Brighton Sia la regina Di questo mercato Perché ha soldi In quantità Comunque ragazzi Ovviamente Aspettiamo anche L'ufficialità Della cessione Di Aude In prestito All'Aston Villa Che ancora Non arriva E in più Altra due offerte Per Scalvini E Viti Attenzione Perché Aude è ancora In trattativa Ragazzi E' un prestito Non dovrebbe Metterci troppo Comunque Allora Per Mattia Viti Arriva addirittura Il Torino Mattia Viti E' un ottimo Difensore Quest'anno Potrebbe essere Protagonista Non vorrei venderlo Però Se mi danno 25 milioni Accetterei Però 25 milioni Mia prima E' anche Unica offerta Quindi 25 milioni Di euro Rifiutati a prescindere Va bene così E adesso Adesso Scalvini Qua arriva l'Arsenal Qua sicuramente C'è da ragionare Un po' di più Io a Barcellona Chiesi 60 milioni E sinceramente Farei la stessa cosa Anche con i Gunners Quindi 60 milioni Di euro Per Giorgio Scalvini Non rifiutare A prescindere Ma Sicuramente Ragazzi L'offerta E' ancora Troppo bassa Ripropongo I 69 Arrivano a 49 Interessante Ma Faccio 59 Tanto per Ma ovviamente Rifiutano Adesso Ragazzi Mi sa Che si può Ritrattare Ranch Infatti Quindi ragazzi Vediamo un attimo Allora Demi Ranch 77 Di overall Nella Scorsa puntata Comunque La scorsa volta Abbiamo offerto 14 milioni E loro hanno Rifiutato A prescindere Io stavolta Partirei Da 16 Sinceramente Che è Quanto vale 16 milioni Non dovrebbero Rifiutare A prescindere Perché Se offri Quanto vale Non puoi Rifiutarmi A prescindere Sarebbe Abbastanza Illogico Ok Non Rifiutano A prescindere Ma vogliono Addirittura Od oggi Non mi Sembra il Caso Facciamo 16 milioni E mezzo Perché Perché questi Qua dovrebbero Accettare Secondo me Sui 17 17 e mezzo Accettano Sono fermi A 22.9 Non va bene Facciamo a sto punto 17 e mezzo Dai Ci potrebbe stare Vediamo Hanno bisogno Di tempo Che ovviamente L'unica cosa Che noi Non abbiamo Visto che Manca Veramente poco Ragazzi Aude ancora Deve partire Sta cosa Mi preoccupo Perché non vorrei Ritrovarmi Tra virgolette Un giocatore In più Perché appunto Sarebbe scontento Non crescerebbe E sappiamo già Come funziona Il gioco Ma fortunatamente Tutto a posto Aude va in prestito All'Aston Villa Per un anno Speriamo che Possa crescere Il più possibile E accettato L'offerta Per l'Age Va benissimo 17 milioni E mezzo È una cifra Che secondo me È onesta È un terzino Che possiamo Sicuramente Valorizzare In Europa Penso che giocherà Molto Perché appunto Vorrei provare Quest'anno A schierare Totalmente La seconda squadra Nelle partite Di Coppa Diciamo È un rischio Perché appunto Non sono fortissimi Ma allo stesso tempo Dipenderà anche Dal nostro girone Comunque ragazzi Andiamoci a prendere Qui il terzino Olandese Che meno male Vuole essere Turnover È fatto anche bene Di farci Quindi benissimo 5 anni di contratto Come al solito Nessuna clausola Recessoria Ma oggi ha lo stipendo Che purtroppo Fa scegliere a me Allora Io gli manterrei 15 mila Anche se Viene dalla Spagna Quindi ci potrebbe stare Però qua ti do 300k Vediamo un po' Non dovrebbe essere Un offerto Addirittura 25 mila Assolutamente no Ripropongo 15 mila Ma ti do 400 Qua vediamo Se abbassa Le pretesse No Vuole minimo 20 mila Cioè comunque 25 mila Io farei 20 mila Però Però qua ti metto 400 Ti prego Non ti ingeppare Ok Meno male Accetta così 20 mila A settimana E quindi arriva Fantastico Che Madonna mia FIFA Comunque Fantastico Che abbiamo preso Ranch Ma ci mostrano L'animazione Della partenza Di Audi Meno male FIFA Che funzioni Sempre bene Ecco qui Me l'ha mostrato L'animazione Del nuovo acquisto Sai com'è Ho fatto un acquisto Vabbè ragazzi Non perdiamo Non perdiamo tempo Con ste cose Perché Anche noi Qui nella speranza Che FIFA Faccia qualcosa Che sia fatta bene Ovvio che no Comunque Allora FIFA ci valuta A Questa trattativa Con migliore offerta Possibile 17.2 17.5 Direi che va Più che bene 300.000 di differenza Che abbiamo anche Dato alla gente Per così dire E ragazzi Adesso Visto che abbiamo I soldi Direi di prenderci Pure Sommer Così Siamo a posto Ci siamo fatti La squadra Sommer Che lo Paghiamo Sicuramente 4 soldi Penso che Sarà Giusto un anno Insieme a noi Poi potrebbe Già partire Perché Mi aspetto Che perda Tanti punti Ovvero Sinceramente Poi Appunto Si spera Di prendere Un portiere Ancora più forte L'anno prossimo Comunque Andiamo a trattare Con il Borussia Sì è un 85 Ma Diciamo Il titolare Ovviamente O coglie Appunto Sommer Il portiere esperto Che giocherà Sicuramente in Coppa Offetta per il cartellino Allora ragazzi Io partirei Proprio da una cifra misera Facciamo 3.800 Perché lì Stava scritto Intorno ai 4.800 Accettate 3.800 Ragazzi Quindi È una spesa Praticamente Irrisoria Ed è assurdo Che noi Possiamo dire Una frase Del genere Perché Per come è iniziato Questo mercato Mai a credere Che Avremmo fatto Tutti questi acquisti Cioè è stato Veramente Tutto grazie a Bassi Il capitano Però purtroppo Ovviamente Vuole essere cruciale Diciamo Questa cosa È un po' difficile Da far capire A Fife In un certo senso Comunque Ignoriamo La cosa Sulla riscissoria Lo stipendio Che addirittura Se lo alza Stai calmo Sinceramente Io vorrei mantenermi Sui 25.000 Qua ti darei Pure un milione Cioè sono disposto A darti un milione Ok Però voglio ottenerti 25.000 Accetta Ok Il milioncino In più Che non abbiamo dato Al Borussia L'abbiamo dato Direttamente al giocatore Va benissimo Così Possiamo permetterci Di fare Robbe del genere Arriva Jan Sommer Vediamo un po' FIFA Quanto c'è lo valuta Arriva il secondo portiere Che è questo qui Cioè raga Siamo riusciti a rendere L'acquisto Di un giocatore importante Come Sommer Come appunto Un acquisto Marginale Comunque ovviamente 85 di overhaul Migliore offerta 3.6 Abbiamo fatto 3.8 200.000 Va benissimo ragazzi E quindi ragazzi Abbiamo finito Abbiamo finito Il nostro calciomercato Abbiamo Le due Squadre complete Che A fine mercato Vi mostrerò Anche nel dettaglio Per così dire Comunque Ancora un'offerta In Newcastle Piomba sul livramento Attenzione ragazzi Sempre alle squadre inglesi Perché adesso Dopo il Brighton Ho paura Però Livramento Tino Tino Farei sempre 60 milioni Che è esattamente Il doppio Rispetto a quanto vale 60 milioni Newcastle Sono fermi A 45 No ragazzi Non va bene Ripropongo La stessa cifra Difficilmente accetteranno Infatti rifiutano E adesso ragazzi Inizia L'ultimo giorno Di calciomercato Noi abbiamo fatto L'ultima settimana Di calciomercato Che è stata Sicuramente Soddisfacente Per noi Abbiamo fatto Gli acquisti Che servivano E adesso Vediamo un po' Se ci sarà Un ultimo colpo Di scena Io credo E spero Di nostro punto Perché Stravolgere tutto Quando mancano Una manciata Di ore Non mi sembra il caso Comunque Quando mancano 5 ore Arriva ancora Un'offerta Per il livramento Stavolta Arriva Il Manchester Andiamo a fare La stessa trattativa Fatta Con Newcastle Liverpool E Juventus Ok 60 milioni Per Tenag Che ovviamente Rifiuta Tra l'altro ragazzi Non è fatto bene Di faccia Tenag Non mi sembra Lui Anzi Vabbè 65 Vediamo un po' 47 2 Facciamo Facciamo saltare Con stile Questa trattativa Riproponendo Sempre 60 Milioni Di euro Ok Ragazzi Attenzione A 4 ore Dalla fine Del mercato Arriva L'Everton Su Non poteva Non poteva mancare Il Real Madrid Ok ragazzi Adesso manca Solamente Il Brighton E facciamo La stessa cosa Fatta per Bassey Però ragazzi Ovviamente Non penso Di far accettare Una squadra Come il Real 60 milioni Si hanno rifiutato Per Bassey Non penso Che accetteranno Per livramento E infatti Rifiutano a prescindere E proprio All'ultima ora Di mercato Arriva Un'offerta Per Luca Romero Da parte Della Offenheim Che sinceramente Diciterà a prescindere A questo punto Visto che Non ha manco più senso Andare a trattare Perché Non c'è più tempo Ultima ora Facciamola scorrere Tranquillamente Ecco qua Vediamo un po' Quanto è stato speso Quest'anno Mi aspettavo Qualche mail Ma non è arrivato nulla Ah eccole qui Benissimo Cioè ragazzi Un miliardo e 7 E praticamente Un bel 10% E tutto per la nostra Comunque ragazzi Attenzione Perché arrivo Un resoconto Per la primavera Un'offerta Per allenare in Cina E un'offerta Per Nusa Da parte della Fiorentina Mercato chiuso Un'offerta Veramente povera Secondo me Perché Ci mettono Addirittura Igor No ragazzi Non mi interessa proprio E ok ragazzi Adesso Ecco quello che volevo fare Andare a vedere i gironi Di Europa League Però ragazzi Attenzione Perché abbiamo Allora Proprio al primo di settembre La sfida contro il Sassuolo Che ovviamente Andremo a farci Nella prossima puntata Insieme all'Inter E all'esordio E all'esordio In Europa League Finalmente Andiamo a vedere Il girone Allora Genoa Sporting Aidux Palato E Rapid Vienna Sinceramente Sono soddisfatto Quasi al 100% Perché Con lo Sporting Ce la giocheremo Anche se raga Io so convinto Che abbiamo Una squadra forte Io Mi aspetto Di superare Tranquillamente Questa fase A gironi E di superare Anche Qualche turno In più Cioè Io tipo Non lo so Un piazzamento Ai quarti Me lo aspetterei Sinceramente Comunque ragazzi Prendiamo Partita per partita Girone con Sporting Aidux E Rapid Vienna Poi Diamo un'occhiata Anche agli altri Con Forsburg Copenhagen Ajaccio E Shakhtar Newcastle Braga Final Helsinki Siviglia Lenz Salisburgo Bohemian Atalanta Celtic Genk Mol Della fine Atalanta In Europa League Ma dovrebbe essere In confidenza Va bene FIFA Poi Inter Strasburgo Youngboy Samarby Betis Dramsaspor Michelin E Apoel E infine Tottenham Mainz Grada Sarai E Panathenaikos Adesso sono curioso Di vedere Che ci hanno messo In conference Vediamo Vediamo La squadra italiana E la Lazio Che l'anno scorso Ha concluso Che era ottava Forse mi sono perso Qualche vittoria Europea Dei nostri No io penso Che semplicemente Per compensare Le Le mancanze Delle squadre russe O comunque La mancanza Delle squadre russe FIFA Piazzi Delle squadre in più A caso Praticamente Comunque abbiamo visto Anche il nostro Girone Appunto Partita contro Il Sassuolo Che vedremo Nella prossima puntata E soprattutto Dobbiamo vedere Che La squadra Titolare Mercato Conclusa È ovviamente Questa qui Con i 35 Piazzi Piazzi Piazzi